Grazie a tutti, un applauso, benvenuti a Firenze. Le sfide che abbiamo davanti richiedono azione immediata, un movimento paneuropeo di sindaci che portano avanti con forza i valori dell'Europa. Qui a Palazzo Medici Riccardi abbiamo voluto promuovere questo incontro perché sentiamo il bisogno e l'urgenza di unire le città europee in una rete che possa parlare direttamente ai governi nazionali, che possa porsi come interlocutore nei confronti degli stati, dei governi nazionali, del mondo economico, culturale, sociale, con proposte che nascono dalle nostre città. Grazie a tutti.